E' stato dissequestrato il cantiere sul lungomare Magna Grecia di Crotone, nel quale lo scorso 5 aprile crollò un muro di contenimento, seppellendo sotto le macerie due operai e prendono in gravemente un terzo che è poi deceduto nei mesi successivi. Le vittime, Giuseppe Greco, 51 anni, di Isola Caporizzuto, Iriac Dragos Petro, 35 anni, rumeno residente a Rocca di Neto e Mario Demeco, 56 anni, anche lui di Isola Caporizzuto, erano operati alla ditta che stava eseguendo i lavori di ampliamento del lungomare per conto del Comune. Gli stessi titolari della ditta sono indagati, insieme a tecnici e dirigenti comunali, dalla Procura della Repubblica nell'ambito di un'indagine per omicidio colposo condotta dal sostituto Andrea Corvino. Il cantiere è rimasto sequestrato per consentire ai consulenti nominati alla Procura della Repubblica di eseguire le necessarie perizie che dovranno accertare l'effettiva responsabilità degli indagati. Su quel tratto di lungomare il traffico era a senso unico alternato, regolato da un semaforo. Grazie. Grazie.